Le mutazioni sociali, il mondo del lavoro in crisi e condizioni familiari estreme hanno inciso sulla popolazione che usufruisce di strutture di assistenza sociale come l'opera Padre Pio di Fano. Sia la tipologia di chi accede al centro di accoglienza notturno per una situazione temporanea o anche solo per usufruire di servizi igienici e guadagnare una condizione umana di dignità e decoro e sia di coloro che giornalmente accedono al servizio mensa è mutata notevolmente. Disoccupati, padri separati, lavoratori saltuari e mamme single sono uno spaccato della nostra comunità e della nostra società che è figlia della condizione socio-economica che stiamo vivendo. La tipologia di soggetti che frequenta la struttura è modificata. Tra un tempo i ragazzi di colore erano numerosissimi sia alla mensa sia all'accoglienza notturna, oggi sono molto meno ma soprattutto stanno modificando le situazioni di accoglienza per persone anche italiane e anche fanesi che sono in difficoltà. L'anno scorso per quanto riguarda i pasti erogati che sono i pasti della mensa diurna, sono i pasti della cena degli ospiti, sono le colazioni degli ospiti, sono i pasti d'asporto, sono i pacchi viveri che diamo alle famiglie che magari non hanno la forza di presentarsi qui quindi usano altri canali e avevamo toccato la cifra delle 27 mila prestazioni e quest'anno stiamo già girandosi su quegli stessi valori quindi sta significando ma si vede anche la tavola imbandita alle nostre spalle. Siete in contatto con le forze dell'ordine, si parla appunto di servizi socialmente utili, c'è tutto un altro aspetto poco forse conosciuto. Noi abbiamo delle persone che prestano servizio perché devono assolvere delle inadempienze nei confronti della società, ad esempio una guida senza patente oppure una guida in stato di avrezza piuttosto che il carcere, l'autorità giudiziaria infligge loro un periodo di lavori socialmente utili. Abbiamo dei rapporti anche con le scuole, abbiamo vissuto forme di alternanza scuola-lavoro ma è successo anche che qualche scuola, qualche consiglio di classe ha inflitto una punizione dei ragazzi per dei comportamenti e all'interno della punizione piuttosto che lasciarli a casa ha dato loro il compito di presentarsi qui e di assolvere delle funzioni proprio per avere un senso di socialità, rendersi conto di qual è la società ad alcuni aspetti e quindi riflettere anche su se stessi e magari sul loro vissuto che è sicuramente migliore ma che non avevano ben apprezzato precedentemente. Grazie